la possibilità di trovare nuova utilità ecco, è qui che la religiosità diciamo interviene nella pubblicità ma mi piace molto questa adesso tu dici questa specie di arcovaleno che tiene insieme una sorta di magia di sapienza antropologica con una sapienza scientifica varie ottenenze in questo arco diciamo che può essere un'antropologia se dico magia, se dico ritualità ti disturba? no no queste civicità no perché poi vedo che per il momento dei pensieri orientali delle discipline si spiega tutt'altro che scientificamente ma il punto è che la scienza che sto raccomando cioè le teorie di granificazione sono teorie che difficilmente potranno mai essere visualizzate ma questo sono contenti dici no però piegati con le mani ma non per come dire una specie di artigianato del volvastrello no se gli piega un cavo no no immagino che sia una questione di variamentale che ha la sensualità della soggettività sì in realtà è molto ridata questa il viaggio è interessante perché partiamo da è come dire fare un viaggio che ha una volontà quasi tutta non tangibile e peraltro e lo fa attraverso la cosa più tangibile più chiara e più chiara che abbiamo il nostro corpo no di rimettere un obiettivo e percorrere faccio una materia di bomba se vuoi no sì il fatto che mi interessava era questa superficie abitabile che in realtà nasconde sì però ci bascono il corpo se non è la sua no ma il corpo è la prima cosa che può che può sperimentare la capacità di contenere cioè la prima cosa che puoi mettere in gioco per sperimentare la capacità di contenere e la nocia di morte cioè adesso di una nocia perché l'ho già psicologizzata diciamo quello della morte la presenza della materia con le figlie diciamo ecco forse il mio punto di vista più rischioso è proprio che mette in dubbio le troppino anche le stringhe non la mette in dubbio quando il tempo emerge con la forma quindi le troppie non può aumentare sempre quindi se le troppie non può aumentare sempre il corpo si può solo trasferire la memoria non è cancellata ma è trasferibile c'è sì c'è la frase ma non l'altro ma io ho paura di trasferimento che diceva che può essere fisicamente dentro l'immagine in questo essere fisicamente nell'uomo nell'immagine non attraverso l'esperienza nella nella mostra al museo Marini questa cosa si perde ma è forse sempre in giornale in una fisicità di fare con il premiare normalmente o fare diciamo diciamo che voglio portare all'individualità l'esperienza del mio corpo è sempre legata all'essenza critica per quanto salto di poco come se io non sono vincolato alla mia individualità di persona io sono vincolato alla semplicità della mia individualità di rappresentare l'equivalenza all'essenza critica quindi quando io salto davanti a un quadro non sono un carrossi ma sono un'essenza critica quando entro in un sacapello sono un'essenza critica quando uso una spugna uso un'essenza critica quando uso un uomo uso un'essenza critica quindi in realtà il soggetto del paico scelto è l'essenza critica scelto